Buongiorno, siamo con la signorina Beatrice, compagna di viaggio, ciao, di Parente Serpente. Quante ore abbiamo fatto di treno? Infinite. Infinite, sono stato 172 più o meno, 172 di meno. No, circa 200. Ah, ecco, ecco. Più o di più. La causa, lasciamola perdere, con i tifosi. Non va bene, dai, sono cose che capitano. Comunque, sei stata una lieta compagna. Grazie. Tu dove scenderai adesso? Io scendo a Badolato. Bravissima. Vuoi mandare un bacio a Parente Serpente e alla gesta di Samu? Ciao, ciao. Ok, grazie. Un bacione, ciao, Beatrice.